Quali servizi sono stati garantiti quest'anno sul sociale? Con il PLNA che oggi approva in giunta abbiamo garantito per il 2015 perché c'è da dire che purtroppo per i tempi lunghi anche che ci ha dato la regione che ci ha scritto la settimana, abbiamo garantito con il PLNA gli assegni per la SLA abbiamo garantito il trasporto per l'autismo, almeno una parte e poi l'ADI che è l'assistenza domiciliare integrata quindi l'assistenza che ha bisogno, persone che hanno bisogno non soltanto dell'operatore sociale ma anche dell'operatore sanitario tant'è che viene dato in convenzione in accordo con l'ASL abbiamo riunito le parti sociali, quindi i sindacati e le cooperative prima ovviamente di far passare l'atto in giunta ovviamente abbiamo con loro però hanno preso atto, hanno ratificato per il 2016 speriamo, è comunque un impegno anche che abbiamo preso con loro di poterci vedere prima per programmare e poi magari invitare la regione a progettare, programmare su quelle che sono le esigenze del territorio Si prevede di garantire i stessi servizi anche per l'anno nuovo? Beh sì, anche se appunto con i sindacati nella scorsa riunione si diceva che insomma cercheremo anche di vedere se ci sono ulteriori domande oppure se nel frattempo queste domande del territorio, le esigenze del territorio sono cambiate quindi le modificheremo in base anche a queste esigenze o almeno proporremo questo alla regione Notizia che c'è da dare, diversamente dal PLNA, il piano di zona invece la regione ci ha scritto proprio in questi giorni che anche per quest'anno dovremo prorogare i piani di zona perché non c'è il piano sociale regionale, non è ancora ovviamente pronto quindi andremo in proroga con i piani di zona anche per il 2016 Dici, dici